in un nuovo finale vediamo che il cadese sta in giocamato Il primo punto On the plate D for the leader from Hungary. Cicciolo di Gessis Vitiće. Vitići from Serbia. Vigorknes now. Vigorknesio Vitiće is to the G.A. ... ... ... ... ... ... Misić, attacca da i Gokomolica, Misić, Misić, scorda il primo punto di Serbia, 1-2, a Muzeta Rivi, da il Mislavik, da il pubblico, 5-0, Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.